Perché è una cosa brutta vedere i panni stesi fuori le finestre. A casa tua come si fa? Noi abbiamo i panni stesi fuori le finestre. È una cosa brutta, è una cosa brutta però lo devo dire. E quindi verrai multato? Saremo multato. In nome del decoro urbano a Civitanova c'è chi per colpa dei panni stesi sul balcone è pronto a beccarsi anche una multa. È quanto prevede il nuovo regolamento di polizia urbana, pronto a rimpiazzare il vecchio datato 1925 e al momento approvato solo per metà dal Consiglio Comunale. 46 articoli che sull'esempio delle più grandi città come Firenze, Livorno e Ferrara puntano al decoro urbano a cominciare dai panni stesi messi al bando su balconi e terrazzi. Tutte le abitazioni con le facciate prospicenti, piazze o vie in questo tipo di palazzine vi è dato a pendere panni oltre il balcone ma all'interno del balcone uno può fare quello che vuole. Sì quindi a stendini in bella vista ma no a panni appesi a ringhiere davanzali, pena molte salate. Sono previste sanzioni che vanno dalle 80 alle 500 euro però quello che voglio dire è questo non è che la polizia locale di Civitanova Marche da domani va con la pistola e con le manette entra negli appartamenti e sanziona le persone. Certamente cercheremo di far capire agli abitanti di alcune zone che devono stare molto più attenti questo è un regolamento di polizia urbana di Decoro. E infatto di Decoro in molti qui non transigono. A parte qualche voce fuori dal coro a Civitanova il buonsenso è arrivato prima del regolamento e delle multe. Il balcone ma non li stendo sul balcone. Come mai? Perché non è decoroso secondo me. Non mi piacciono ecco come cose, c'è anche altri sistemi insomma anche dentro casa di asciugare i panni non ne metterli fuori all'esterno delle terrazze. Se uno però non c'è il posto dove li mette? Se hai l'asciugatrice in casa ok ma se non ce l'hai dove li stendi i panni? Anche è giusto, se no sembriamo tutti al mercato qui. Perché è un decoro anche per la città, il paese. Ma non è solo al Decoro che guarda il nuovo regolamento in via di approvazione ma anche alla sicurezza. Tra le nuove norme infatti oltre a quella sull'obbligo dell'allaccio al metano per disincentivare l'uso delle pombole a gas anche quella che sanziona l'accattonaggio molesto e che fa scattare il DASPO urbano. Siamo il primo comune nelle Marche che praticamente ha attuato, ha approvato il DASPO che vieda a tantissime persone che vengono qui a Civitanova Marche a delinquere, ad ubriacarsi, a spacciare ad essere allontanate.